Aveva 51 anni Biagio Riontino, l'uomo di Zapponeta morto lunedì sera nella casa di cura Santa Maria di Bari dopo aver contratto l'influenza. La settimana scorsa l'uomo segretario del PD cittadino e molto attivo anche nella società civile era stato ricoverato in ritorno ad un viaggio in Francia con altri 38 concittadini. Affetto da diabete il 51 anni era stato ricoverato prima a Manfredonia poi a Cerignola e infine a Bari per una miocardite sindrome multiorgano con rabbo di omoloisi e insufficienza renale. Due giorni fa l'uomo era stato affettuato il tampone nasofaringeo per la ricerca del virus H1N1. Ieri mattina a poco ero del decesso del 51 anni l'esame ha dato esito positivo. Nel 2011 il primo caso di decesso di influenza in Puglia, il secondo in Italia. Sì abbiamo la conferma con il dato positivo ovvero sia con il tampone faringeo fatto presso l'istituto di igiene in Stati Bari quindi c'è positività dal tampone faringeo. È un cittadino della nostra provincia però il decesso è venuto a Bari. Voi state coordinando l'unità di crisi? Sì noi abbiamo già attivato l'unità di crisi perché abbiamo il problema della sorveglianza diciamo sanitaria dei soggetti con i quali questo cittadino è avuto a contatto a partire da 38 suoi concittadini che lo accompagnavano in un viaggio in Francia e che hanno viaggiato in Pullman quindi hanno contatti con il soggetto. Poi stiamo anche controllando tutti i soggetti, nostro personale soprattutto, che ho avuto contatto con questo paziente nell'ospedale di Manfredonia dove per prima è stato ricoverato, poi di qui trasferito a Cerignola dove c'erano tutti i segni evidenti diciamo di un possibile infarto del miocardio e poi trasferito a Bari. Però dei dati che ho avuto contattando anche i medici di famiglia di questi soggetti di Saponeta ad oggi nessuno ha manifestato segni di influenza. Quindi non si può parlare di emergenza, di pericolo? Ma io direi di no perché il periodo influenzale è di sette giorni, loro sono rientrati già dalla Francia subito dopo il 5 di gennaio, siamo oggi all'11 di gennaio, il periodo diciamo classico per fare un'influenza è quasi superato per cui io escludo che ci possono essere altri casi di influenza. Però naturalmente il nostro compito è di tenere una stretta sorveglianza sanitaria e in più come azienda abbiamo riconvocato la nostra unità di crisi provinciale per decidere le ulteriori eventuali misure di sorveglianza da attuare.